Mi chiamo Antonella. Io sono Matteo. Indirizzo artistico. Conservazione del vero territoriale, indirizzo storico-artistico. Non vorrei occuparmi sempre del campo dell'arte e magari diventare anche critica d'arte, insegnare, comunque storia dell'arte. L'Italia ha un grande serbatoio. Mi dà gioia avere soddisfazione di me stessa, dare soddisfazione agli altri e dare a tutti la possibilità di essere soddisfatti come me dei propri studi. Tutto quello che mi circonda mi rende felice. Penso per il futuro di entrare nel mondo del lavoro con la possibilità di fare quello che mi piace, ossia dedicarmi alla storia dell'arte, all'arte e comunque a tutte le bellezze dell'Italia. L'arte è vita. Spero di dare un contributo per poter guardare con occhi diversi la storia dell'arte del passato e quella del futuro. Mi chiamo Im. Deve essere una cosa che ti piace, la passione è la prima cosa. A me piace e quindi lo faccio. Una palestra per la vita e per l'intelletto. Grazie.